Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A voi il giudizio stasera, io vi giuro che sto tremando. Però andremo subito a farvi vedere che cosa abbiamo preparato, sperando che sia di vostro gradimento e ricordando che siamo tutti, 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 dall'autore al regista a tutti gli altri, tutti assolutamente, assolutamente, come dire, dei debuttanti. Grazie. 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 Grazie.